E' ancora presto per tirare le somme, ma i primi dati del Natale 2017 indicano nel Padovano un cambio di rotta negli acquisti legati alla festività. Timidamente o no, dipende dal settore, al segno meno si è sostituito il segno più. Ed è per questo che la partenza dei saldi, ai quali è aderito circa l'85% dei negozi della provincia di Padova, è guardata con ottimismo. Il calcolo di Convesercenti parla di circa 105 milioni, più dello scorso anno. Quindi l'attesa è maggiore rispetto allo scorso anno, con una spessa media pro capite di circa 160 euro, leggermente superiore alla media nazionale tra l'altro. E Convesercenti Padova lancia anche una provocazione sulla recente polemica per il pagamento dei sacchetti di plastica nei supermarket, potrebbe fare da volano al rilancio dei piccoli negozi. I nostri negozi di vicinato, le bancarelle, i nostri ambulanti, solitamente servono l'ortofrutta dentro sacchettine di carta che non vengono addebitati.